eccoci qua a vedere lo shop di oggi 21 aprile 2021 è tornato carlino anche in modalità natalizia e militaresca giustamente lo zenetto per il cane ci vuole il piccone osso dorato poi che abbiamo comandante scarlatto bellina questa abbiamo questo tamarrone qua bella però sta skin dai sembra un po' una versione di blade modificata poi che abbiamo bubù settete eh così è bellina va bene in tutte le maniere anche così è simpatica a far ridere simpatico dai clown il bubù settete maschio diciamo poi che abbiamo Rex che l'abbiamo già visto questa è la fidanzata di Rex la triceratopa triceratopa ecco ah questa è carina che la volevo anche questa è simpatica dai con il cappuccio la giacca tutta sfaccettata infatti si chiama sfaccettata non mi veniva un altro termine veniamo ai balletti oh qua quando fai vittoria reale che hai sudato e ti serve anche l'asciugamanino da try harder schianto terrestre dacci dentro vieni qua anche questo è carino mentre le altre le conosciamo già ok ci vediamo prossimamente in live ciao a tutti buonanotte buongiorno eccetera eccetera ciao a tutti